Sandro, Sandro, Sandro Cicari Sandro, Sandro, Sandro Cicari Sandro Cicari Sandro Cicari Buongiornissimo, bentornati, buongiornissimo, bentornati, mi prendo il caffè, sono subito da voi, tanto ormai mi avete imparato a conoscere, no? Quindi nel frattempo io mi faccio una bella iscrizione e bevo il caffè. Allora cari amici, cari amici, eccomi qua, mi vedete col maglione perché ovviamente è tornato il freddo, cioè in questi due o tre giorni è stata una cosa disgustosa veramente l'inverno e si è riaffacciato alle nostre porte, alle nostre finestre, quindi ci ha un attimino spiazzati, non ho voluto per tirchiezza accendere il riscaldamento, quindi mi sono vestito un po' più pesante, ovviamente sempre ciao dalla nostra terza telecamera incomoda, sempre alle spalle, quindi un po' nascosta e rientriamo ovviamente nella telecamera 1. Allora abbiamo iniziato un percorso di, abbiamo affrontato, stiamo affrontando insieme a voi un discorso di aggiornamento dell'accumulo con questa tecnologia che è vecchia di cent'anni però che comunque sta sviluppando negli ultimi tempi, la famosa tecnologia dei supercondensatori o i supercapacitori come vengono anche chiamati e diciamo dagli inglesi, supercapacitor, praticamente sono dei condensatori che hanno all'interno addirittura, ho letto un attimino, mi sono informato alcuni di questi, quelli diciamo più moderni, più sviluppati, il modello che stanno testando sempre di più in questi ultimi anni hanno all'interno addirittura dei componenti fatti al grafene, quindi il famoso grafene di cui abbiamo già parlato in qualche video precedente, questo materiale che è appunto ricavato dalla grafite che ha lo spessore di un atom, che ha una grande conducibilità elettrica e una bassissima resistenza all'energia elettrica e quindi appunto si sta sviluppando questa diciamo nuova, che non è nuova però si sta diciamo migliorando, sta migliorando questa tecnologia e stanno cercando di ottenere dei risultati ovviamente dai condensatori, perché il condensatore come vi ho già spiegato, il tipo di immagazzinamento della corrente all'interno di un condensatore è a livello di induzione, cosa vuol dire? È come la corrente che c'è nella staticità delle cose, nell'aria, negli oggetti, vi ricordate quando scendiamo dall'automobile che a volte prendiamo la scossa, questa è una corrente di staticità o di induzione che viene scaricata a terra dal nostro corpo, il condensatore grosso modo ha diciamo l'immagazzinamento dell'energia al suo interno con questo principio qui, quindi immagazzina tanta corrente e la rilascia in un attimo, qual è il problema del condensatore? È la densità della corrente, la sua densità è molto, 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 molto inferiore a quella che può essere la densità di una batteria, come può essere la batteria al piombo, come può essere la batteria agli ioni di litio o al litio ferrofosfato o al litio titanato, ma insomma in generale gli accumulatori di per sé, perché? Perché il condensatore appunto non ha una corrente, ha una corrente immagazzinata in forma di corrente statica, ok? Quindi come la immagazzina, come la rilascia? hanno studiato un sistema per appunto creare queste batterie che vi ho fatto vedere già nel video precedente, hanno trovato un sistema per poter rilasciare, per poter immagazzinare la corrente in maniera un po' più diciamo voluminosa o perlomeno un po' più corposa, cioè riuscire a buttarci dentro la corrente in maniera diciamo che sia più densa, la sua densità appunto è molto bassa e quindi ovviamente abbiamo quei valori che abbiamo già riscontrato anche nelle batterie della Sirius che vi ho presentato nel video precedente. Qual è il problema? Il problema sta lì, cioè nel senso se io ho tanta energia da poter sfruttare ma in realtà questa energia mi dura veramente poco perché ci sono dei test, adesso vi faccio vedere alcune cose ma ci sono, se li cercate sul web, ci sono diversi test che sono stati fatti con questi condensatori e appunto si ha una energia, tanta energia, si fa veramente veloce a ricaricarli ma si fa anche veramente veloce a scaricarli, cioè quindi è per quello che io ho diciamo messo nel discorso precedente l'abbinamento fra batterie che siano al piombo, che siano al litio come volete ma comunque tra batterie tradizionali con grande densità di energia all'interno e i condensatori, le due cose vanno tranquillamente insieme e quindi avendo questi due elementi che possono lavorare in perfetta armonia abbiamo un risultato migliore in termini di prestazioni nell'immediato ma anche in termini di prestazioni nel lungo termine quindi ovviamente sto procedendo ulteriormente ad aggiornarmi in questa materia allora vi ricordo sempre l'iscrizione al mio canale, like e condividi, iscrivetevi al canale Sandro Cicali Free Energy, entriamo, entriamo voglio far partire un video, un video che ho appunto guardato in questi giorni non è un video di ore, è un video del 2018 dove è stata sperimentata questa batteria che vi ho spiegato appunto l'altra volta e ci sono diversi problemi, ci sono diversi problemi nel senso che questa batteria funziona, funziona molto bene e ha appunto grandi capacità però ovviamente non siamo a livelli di una batteria normale perché come vi dicevo prima la densità che hanno queste batterie è molto inferiore rispetto alle batterie tradizionali quindi cosa vuol dire? vuol dire che possiamo assiemarla come vi ho già precedentemente spiegato poi c'è un altro discorso che è venuto fuori e me lo sono segnato qui giusto per ricordarmelo ma nelle batterie Sirius che vi ho fatto vedere nel video precedente c'è scritto appunto che si possono collegare tranquillamente ad un impianto, ecco qui c'è addirittura scusate in questo caso qui si vede l'interno di questa batteria che costa mi sembra 4.000 euro vedete com'è costruita? cioè veramente io pago 4.000 euro e mi compro una cosa che praticamente è costruita in maniera artigianale perché io vedo del nastro adesivo, dei pezzi di legno, dei pezzi di multistrato e cioè così pezzi di scotch un po' da tutte le parti colla a caldo o silicone cioè non dico che non funzionano però per una cosa io pago più di 4.000 euro insomma credevo di avere qualcosa di meglio insomma all'interno di questa batteria non vedo grandi qualità ecco qui c'è un interruttore magnetotermico semplicissimo cioè un teleruttore che stacca e attacca sì non dico che non funziona però insomma un oggetto che io pago tutti quei soldi lì mi sembra un attimino esagerata la cosa comunque vabbè non voglio far polemiche non voglio fare altri discorsi in merito voglio semplicemente dirvi che appunto il discorso è che questa batteria qui che vi ho fatto che vi ho illustrato la volta precedente vediamo se riesco a ritrovarla nell'elenco della roba che ho trovato eccola qua questa allora questa è la famosa batteria a 12 volt con 465 watt ora io ve lo faccio rivedere 465 watt ora cioè il consumo di un frigorifero acceso per un'ora quindi io spendo 540 euro per tenere acceso il frigorifero un'ora cioè questo è in sostanza il discorso e quello è per quello che vi dicevo appunto che queste batterie qui si costano però se le mettiamo in comunicazione o in lavorazione in parallelo insieme ad altre batterie che hanno una densità maggiore ovviamente queste allora funzionano veramente bene ma se dobbiamo utilizzare solo queste ne dobbiamo comprare veramente tante cioè non ce ne basta 4 5 6 di queste qui andiamo 3.000 4.000 euro di spesa per avere un rendimento ovviamente illimitato perché un milione di cicli di ricarica e scarica cioè le compriamo adesso e ce le portiamo praticamente sottoterra quando moriamo perché praticamente quando noi arriveremo alla soglia degli 90 anni le batterie sono ancora funzionati a parte le battute scusatemi ma sto scherzando e appunto le nostre batterie saranno praticamente indistruttibili quindi è un investimento che va bene che funziona quindi è giusto e diciamo materialmente realizzabile ma io mi sono soffermato soprattutto su un particolare su un particolare che ho appunto trovato nelle specifiche che non mi ricordo se in questa scheda qui ma non mi ricordo bene comunque è su un'altra scheda dovrei entrare nel loro sito adesso non me lo ricordo esattamente ma comunque le specifiche di questa batteria qui sono la scarica e ricarica al 100 per cento e quello va bene non ci sono problemi la corrente di ricarica non deve superare i 13 i 14 volt e mezzo per almeno 60 secondi questo è scritto non su questa scheda che ho qui davanti ma su un'altra scheda comunque riferita sempre al solito modello di batteria e c'è scritto appunto che la corrente di carica quindi per avere la corrente di fluttuazione come tutte le batterie al piombo a 13 e mezzo io per avere una corrente di 13 e mezzo di fluttuazione devo ricaricare le batterie al piombo a 14 e mezzo 14 6 e in inverno addirittura anche a 14 8 14 9 quindi quando fa più freddo con la batteria a super condensatore a 12 volt assiemata insieme a queste batterie qui non posso fare questa ricarica qui non posso dare questi voltaggi e allora mi è venuto il dubbio mi è venuto il dubbio perché all'interno di queste batterie ci sono dei condensatori che hanno per ogni condensatore 2,7 volt e 500 farad l'uno ogni condensatore a 2,7 e 500 farad ok messi collegati in serie ok se io collego 5 di questi condensatori 2,7 di tensione massima cioè non si può andare oltre 2,7 perché il condensatore esplode fa un bel botto non succede niente non è che prende fuoco fa un bel botto e finisce lì però non funziona più lo butti via esplode è come è come una cartuccia del fucile quando l'hai utilizzata è esplosa ok quindi 2,7 la tensione massima la tensione massima quindi io praticamente 5 se io metto 5 condensatori collegati in serie arrivo a 13 e mezzo di tensione massima e molto probabilmente all'interno di queste batterie qui ci sono stringhe da 5 condensatori a 12 volt collegati ovviamente in parallelo quindi 5 condensatori 5 condensatori 5 condensatori tutti a 13 e mezzo infatti nelle specifiche c'è scritto di non arrivare a 14 e mezzo perché altrimenti il bms che è contenuto all'interno della batteria stacca spegne la batteria quindi vuol dire che all'interno loro hanno messo 5 condensatori quando invece la regola su questi tipi di batterie qui non è 5 condensatori ma ben 6 condensatori per arrivare ad una tensione massima di 16,2 quindi cosa mi vuol dire se io ho sei condensatori per ogni stringa moltiplicata per 10 20 30 quante saranno all'interno di questa scatola che diventa poi la batteria io posso tranquillamente superare i miei 15 volt perché io i condensatori non è necessario e li ricarichi per forza a 16 e 2 li posso anche ricaricare a 15 a 14 e 8 come farei con le batterie al piombo e non ci sarebbe nessun problema perché il condensatore ha quella soglia massima ma non sono obbligato a raggiungere la soglia massima io lo posso ricaricare anche un po' meno e sfruttare da quel 14 e 8 fino a 11 e mezzo 11 e 8 tranquillamente senza nessun problema ma se mi mettete un paletto cioè a 13 e mezzo io a quel punto o utilizzo i super condensatori o utilizzo le batterie al piombo cioè non si scappa perché uno delle due va in defiance quindi probabilmente queste batterie qui hanno questo grosso difetto oltre che un difetto diciamo di costruzione e diciamo un po' di è un po' lasciate andare diciamo costruite un po' in maniera così leggerina hanno questo problema qui perché io non posso superare i 13,5 questo è un grosso grosso problema perché non posso far funzionare il mio pacco in maniera mista come avevo inizialmente previsto e questa è una cosa molto molto importante probabilmente è stata fatta in maniera commerciale nel senso se vuoi le batterie ai condensatori devi buttar via quella al piombo e metti solo batterie ai condensatori ed è un discorso probabilmente commerciale per cercare di piazzare il prodotto che ovviamente costa caro perché non è che costano poco costano parecchio care queste batterie qui hanno ovviamente un rendimento talmente tanto prolungato nel tempo che la spesa iniziale è alta sicuramente e infatti effettivamente è praticamente un risparmio quindi tutto quello che spendereste nell'arco degli anni sostituendo le varie batterie vari cicli di batteria gm o anche al litio con queste qui non succederà mai una volta comprata rimane quella però c'è questo dubbio qui mi è venuto fuori questo dubbio qui cosa ne pensate anche voi che cosa ne pensate secondo me è una manovra è una manovra commerciale perché non si scappa cioè secondo me è una manovra commerciale quindi ragazzi per adesso mi rifermo nuovamente sto porterò avanti ancora vi ricordo sempre like e condividi al video iscrivetevi al mio canale portiamo avanti questa questa tipologia di impianto poi ho anche altre novità per quanto riguarda il mio impianto sto facendo dei vari calcoli dei vari upgrade per modificare la tensione dell'impianto fotovoltaico che ho io cioè portarla a 24 volte sto facendo i vari calcoli vari diciamo parametri costi e benefici quindi vediamo se posso fare questa modifica ottenendo un risultato migliore sprecando meno energia quindi avendo meno dispersioni anche se ne ho poche ma comunque un po di dispersioni ce l'ho quindi alzando la tensione e vabbè poi lo sapete un po tutti no vi spiegherò e nel corso dei prossimi video come andrà a finire ok quindi vi ricordo sempre like e condividi iscrivetevi al canale sandro cicali free energy ovviamente la musica e tutto quello tra l'altro devo ancora terminare il video quello delle delle canzoni e lo farò quindi ricordo comunque sempre l'iscrizione è bene e poi e poi anzi vi voglio mettere anche la nuvolina come come ormai di consueto e appunto darvi l'appuntamento al prossimo video è molto presto io ogni due ogni giorno ogni due giorni grosso modo un video lo tiro fuori però approfondisco questa cosa mi sono scritto diverse cose qui da approfondirmi nel corso di questi giorni quindi pensiamoci a questo discorso dei condensatori perché è molto molto conveniente ma non so se forse conviene costruirsela da soli una batteria del genere che comprarla già belle belle fatta diciamo ok grazie di tutto e alla prossima ciao a tutti ciao ciao Sandro 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 Cicali Sandro Sandro Cicali